Ciao a tutti, benvenuti, io sono Paolo Trippini del ristorante Trippini a Ciritella del Lago, ristorante da ormai da 50 anni, siamo qui a Expo Italy per promuovere la regione Umbria, quindi vi invitiamo a venirci a trovare la regione Umbria dove troverete tutti i piatti genuini della nostra regione, da zuppe di regumi a tartufo e carne di maiale, quindi quello che proponeremo noi qui nell'Osteria Umbria sono uovo al tartufo, uovo morbido con una spuma di patate e del tartufo grattugiato, poi avremo una zuppa di farro e lenticchie, una tagliatella al tartufo e poi dopo per finire uno spiedino tipico Umbria fatto con parte grasse e parte magra del maiale, concludiamo in dolcezza con una grostata di mandorle, vi aspettiamo e a presto!